Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a vedere come impostare il BIOS di questa scheda madre. Parliamo della X670 Gaming XAX della Gigabyte. Ho appena messo il BIOS in modalità default, come se fosse al primo avvio. Al primo avvio che cosa troviamo? Questa schermata che si chiama Easy Mod. Troviamo praticamente le informazioni basilare. Il modello della scheda madre, la versione del BIOS, il processore che abbiamo installato, il quantitativo di RAM, la frequenza nominale della CPU, la frequenza nominale della memoria, la temperatura della CPU, la temperatura del sistema, cioè la temperatura media che sta all'interno del case, il voltaggio della CPU, la temperatura del chipset, quindi del chipset proprio X670 su piastra, e la temperatura dei VRM, quelli che danno proprio tensione al processore. Qui abbiamo DRAM status, praticamente questa è la situazione generale di ciò che abbiamo montato negli slot delle memorie. Abbiamo quattro slot, però noi sappiamo che le memorie vanno montate tendenzialmente nello slot A2 e B2, se abbiamo due moduli. In questo caso abbiamo due moduli da 16 GB ciascuno a 4800. Le memorie comunque che io ho comprato sono da 6000, poi andremo a vedere come portarle a 6000. Qui abbiamo la situazione dei device. Abbiamo un disco serial ATA, abbiamo appunto una scheda video installata sul PCI Express, quella da 16 linee, e abbiamo due dischi M.2. La sequenza d'avvio viene gestita da questo disco, il Samsung, sul quale è installato appunto il sistema operativo, e qui abbiamo la situazione e la gestione praticamente delle ventole, che si chiama Smart Fan 6, cioè praticamente è un applicativo che sta all'interno del BIOS, e ci permette di modificare la velocità di rotazione di ogni ventola installata nel nostro computer in relazione alla temperatura. Poi vedremo anche questo. Allora, questa è solo una situazione iniziale. Per operare serialmente nel BIOS dobbiamo passare nella modalità avanzata, quindi passiamo alla modalità avanzata. Per prima cosa è importante girare subito qui. Allora, capiamo che il clock base della CPU è 100 MHz, il moltiplicatore è 45, quindi sappiamo che la frequenza nominale sarà 4500 MHz. Il PBO, precision boost overdrive, lo terrei disabilitato. Queste impostazioni qui le terrei... Questo, il PBO, lo metterei non su Auto, ma in Advanced, e poi più avanti andremo a vedere cos'altro a modificare. DDR5 Auto Booster, io lo metterei in Auto. Quello che a me preme molto ora è andare a impostare le memorie, proprio perché io ho acquistato delle memorie da 6000, e attualmente stiamo andando a 4008, quindi infatti lo vediamo anche qui sulla destra. 4008. Visto che ho delle memorie certificate AMD 6000, bla bla bla, e XPO, andiamo a selezionare XPO2A. Il profilo XPO2 dice DDR5 5600 a 1,25V. No, perché io le ho da 6000. Ok, questo è il parametro corretto. DDR5 6000, latenza 36, 38, 38, 80, 1,35V, perfetto. Supportano la bassa latenza, quindi le abilitiamo. Abilitiamo il supporto per avere... Vedete sotto, Disoption, Maincrease, Memory Performance. Ok, supporta un'altra banda, passante, l'abilitiamo. Questo moltiplicatore lo lascerei com'è. Infinity Fabric Frequency è molto importante. Va impostato su 2000 MHz. UCLK mod deve essere sempre uguale. Cioè, rapporto 1 a 1. UCLK deve essere sempre uguale a MEM Clock. Ok, questo per avere le massime performance. Poi, impostazioni avanzate di memoria, Memory Subtimings, direi che qui, noi possiamo andare a cambiare, cioè a forzare i tempi di latenza, ma in questo caso non serve, perché noi abbiamo già delle memorie, vedete, DDR5, A2, B2, e abbiamo delle memorie dove nel nostro profilo EXPO1 che abbiamo selezionato, ci sono già i tempi TCL. Tutti questi quattro tempi qui sono già stati preimpostati appunto nel chip della memoria, selezionando semplicemente il profilo EXPO1. Quindi, scazzo zero. Ok. V-Core CPU. Ecco, questo è una cosa molto importante, perché lasciandolo in auto, in teoria, non vi sbagliate mai. In pratica, la questione è un attimino più complicata, perché, primo rilascio di queste schede madri, quelle con il chipset X, appunto, 6.70, tenendo in auto il V-Core della CPU, a volte da troppa corrente al processore, c'era quel bug praticamente che poteva friggerti la CPU. Beh, se voi però fate un aggiornamento del BIOS all'ultima versione, come ho fatto io, anzi, no, scusate, io sono al penultimo aggiornamento, potete anche lasciarlo su auto. Quindi, io in questo caso qui lo lascerei su auto, senza alcun problema. Nota molto importante, le memorie, avendo settato il profilo EXPO a 1.35V, perché sono dichiarate stabili così, andiamo nel DDRV, DDV, e andiamo a settare manualmente il voltaggio che vogliamo. Noi andiamo a settare 1.35V, nominali, e non ci possiamo sbagliare, in modo da essere stabili. ok. Gli altri parametri direi che possono anche essere lasciati su auto. Priorità opzioni di avvio, cioè il boot del sistema, opzioni di avvio, capisce già che c'è una partizione d'avvio con il sistema operativo, sul nostro SSD, quindi va benissimo così. Avvio rapido, io per ora lo terrei disabilitato perché? Perché adesso abbiamo impostato appunto il BIOS. al successivo riavvio, se tutto è corretto, rientriamo nel BIOS e attiviamo l'avvio rapido. Possiamo salvare e uscire dalla configurazione, nemmeno così il computer farà il reboot. Ok, qui in questa schermata, prima di salvare la configurazione e riavviare, ti dice le ultime modifiche, ti dice praticamente tutto quello che abbiamo modificato, tutti i parametri, dallo stato precedente allo stato attuale. Allora, save configuration reset, yes, reboot. Ok, stiamo rientrando nel BIOS, perfetto, ci siamo. Vediamo subito che le modifiche che abbiamo fatto, impostazione delle memorie, xpo1, ok, è stata presa. Ok, messo anche 1,35 volts le memorie. Io farei un'altra cosa, andrei a modificare i parametri appunto di velocità di rotazione delle ventole, perché secondo me, quelle di default iniziali sono troppo aggressive. Allora, andiamo in Smart Fan 6, ok, qui possiamo fare il tuning appunto di velocità di rotazione delle ventole della CPU, CPU OPT, che nel mio caso è stato occupato per dare tensione alla pompa del raffreddamento liquido, e altre tre ventole messe su System Phone 1, 2, 3. Ma la cosa più importante che mi preme è questa, la CPU. Per me, di default non va bene, perché? Perché il processore che ho, il 7.950X, ha una temperatura operativa media, da quello che ho potuto constatare, di 75-80 gradi, quindi è già superiore al... cioè, praticamente, secondo loro, le ventole dovrebbero praticamente girare sempre al 100%, e diciamo che è abbastanza fastidioso, è rumoroso, ma non va bene, quindi, andrai su manuale, ah, una cosa, giusto, silenzioso, silenzioso non migliora questa condizione, ma la condizione viene migliorata soltanto in IDLE, o quando sostanzialmente non utilizzate il computer. Quando giocate o fate video editing e quant'altro, sicuramente, se vedete il parametro 7, è identico, nelle due modalità, silenzioso e normale, non cambia niente, quindi per cambiare meglio, bisogna per forza di cose settarlo manualmente. Io già questo lo metterei, temperatura 100, che non ci arriverà mai, perché tutti i processori Ryzen sono cappati a 95 gradi, PWM arriverà al 100%, intanto non ci arriverà mai, io imposterei già una curva così. Ma queste sono personalizzazioni, cioè dovete sperimentare un attimino voi. Io vi consiglio di impostare la velocità delle ventole direttamente dal BIOS, e non utilizzare degli applicativi in Windows, proprio perché è più comodo. fate qualche esperimento, ma c'è proprio scazzo zero. Ecco, io qua metterei 80 va al 70%, qua metterei 60 gradi, anzi no, prendiamolo più preciso. facciamo 70, 70 andrà a 60%, 60 gradi la portiamo al 55, io direi che una cosa del genere più o meno può andare bene. e Z-tuning. Cos'è Z-tuning? Praticamente lo fa lui in automatico, però secondo me non è soddisfacente come risultato, è meglio farlo manualmente. Poi, come ho detto prima, io nel CPU OPT ci ho collegato la pompa, praticamente, del loop, del sistema di raffreddamento liquido. e niente, io metterei massima velocità, intanto non si sente. Quindi, perfetto così. Boh, quindi abbiamo dato un occhio anche a questa funzione qui. Direi che abbiamo più o meno visto un po' tutto, a meno le cose basi, poi nei video successivi pensavo di portarvi qualcosa di più specifico, avanzato, tipo andare a dover bloccare ulteriormente queste memorie e andare a dover bloccare, a cambiare proprio la frequenza del processore, ovviamente rendendolo stabile. E volevo anche portare un video su come si va ad aggiornare il BIOS, quindi vi farò un video dedicato solo su questo, dove in diretta con me vedrete proprio come aggiornare il BIOS e qui all'interno c'è proprio l'applicativo destinato a ciò, che si chiama QFlash. Si dovrà utilizzare una chiavetta da inserire proprio nella porta USB specifica proprio per l'aggiornamento del BIOS. Niente, questo video termina qui. Se sei arrivato a guardare il video fino a qua ti ringrazio. Metti like, iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima. Grazie mille.